mi sto abituando per entrare ma non so no mi aveva chiesto il link gianmarco giuro giuro mi aveva chiesto il link gianmarco oddio mi preparo te lo giuro è venuto in chat da me e mi ha scritto il problema è che non so se sa come si entra devi cliccare sopra gli mando un vocale aspetta provo a rimandarglielo guardando delle tettone adesso è però posso dirti che sono a me è meglio carino che comunque che ecco tu conosci pure purtroppo come purtroppo perché hanno un beef di permettere avete un beef che ecco tutto per scherzo ma canzone dell'acqua la gente chiama c'è ma alcuni fanno jano ma tutti cantano ma tutti accolta a braccia aperte quando ho litigato con ciccio sono incazzata per le kill di merda si scherza dai si scherza non puoi farci niente almeno del culo e dove che mette il dito nella fine la figa nella piaga ho venuto un messaggio posso dire cosa cosa che succede posso dire che il ragazzo abbandona otto suoi amici per venire qui a fare il clown grazie posso posso permettermi questa cosa fai non cacca e non chiccare tutti non voglio rimanere da solo vuol entrare nel mondo e non volevo prendere al marzo che li carissimi ma non si aprile ma non sono ancora dentro dario si arrabbia chi non devo portare segnare non vestemmiare non terminati o almeno sono più bello è un demone ingiocabile al braccio grazie ragazze ma forse non ha dato il coraggio di grattarsi ma guarda semplicemente l'ultima volta che vedremo già mara ho una dignità ancora una dignità ancora abbastanza non voglio perdere il saluto di dario moccia che mi ha minacciato e che ci voleva stacco che esci e come te sbagli mi dispiace cioè io non so cosa dire sarà crashato giuro io ho passato solo il link non sapevo nulla sarà crashato ho voluto farti capire che esiste però capito ho ritirato subito ho bestemmiato per quello non lo so non lo so non penso proprio stavano di nuovo le tette eh sì ho provato vabbè mo dobbiamo stare tutta così no eh mi sa che è un po preso male adesso quando ti stai per fidanzare vedi la tua tipa che ti tardisce capito è un'emozione forte quello che sto provando voi non capite questa cassa è nuova è nuova questa vabbè ciao 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 ciao